Buongiorno, buongiorno, è mercoledì 28 ottobre, di nuovo buongiorno da parte della nostra redazione e la nostra rassegna stampa che come sempre vi terrà compagnia nelle prime ore del mattino, tanti fatti da analizzare attraverso le pagine dei giornali, dei quotidiani con anche il contributo dei servizi realizzati ieri da parte della nostra redazione. Iniziamo subito questa rassegna da alcune prime pagine delle testate nazionali, subito con la Repubblica, Unione Europea, Juncker, apre alla flessibilità, sì alla manovra, migranti via libera allo sforamento del deficit, ma il Presidente attacca, non tutti fanno abbastanza. Braccio di ferro sulle cifre fra Italia e Paesi del Nord. La fotonotizia con la sentenza del Consiglio di Stato, nozze gay, battaglia sul no, quel giudice è prevenuto. Poi sotto la testata il campionato passa a Bologna in 10, l'Inter decide Icardi di nuovo sola in vetta, almeno per 24 ore. Poi questa sera si giocheranno le altre partite del massimo campionato di Serie A. La copertina, le ceneri di Pasolini, che cosa resta di un maestro corsaro? E poi ancora le nomine, svolta del Papa, due vescovi, preti di strada. Rivolta dopo l'allarme dell'OMS, carne e consumi giù del 20%, a rischio 180.000 posti. E poi a Roma il Sindaco Marino resiste, Renzi mi veda. In basso gli scacchi entrano a scuola, così si impara la matematica. E poi ancora il personaggio dal Pacifico al Califato, le guerre di Obama. E infine, allegretto, alle 5 della sera, Valentino vincerà il suo mondiale sulla vecchia Gilera. E allora lasciamo la Repubblica e andiamo con la prima pagina del giornale. La manovra del Premier, Renzi ci fa invadere per denaro, per elemosinare l'ok europeo alla finanziaria dovremmo prenderci sempre più immigrati. E poi Marino ci ripensa, oggi ritira le dimissioni. E poi ancora il caso Palenzona, Unicredit, affittava locali dal mafioso. Ora indagate pure lo Stato. La fotonotizia dedicata a Valentino Rossi, sempre la polemica dopo i fatti di domenica mattina, Valentino correrà a Valencia se gli spagnoli diventano più insopportabili dei francesi. Dal Barsa al duello Rossi-Marquez ci fanno la morale, ma dimenticano i loro scheletri, per esempio il doping. In basso, i sottoscrittori subito in perdita, poste il governo ha sbagliato i conti, la mega privatizzazione voluta dal Premier parte con un calo sul mercato. Consiglio di Stato, vieta le nozze gay, fango sul giudice. In basso, salsicce di grano e lavanoci e l'industria della paura. Dalla carne ai detersivi, ogni allarmismo è seguito da nuovi prodotti. E poi la storia, l'ultimo cane eroe del Torri Gemelle. Andiamo ora alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che apre così la manovra di Confindustria. Renzi annuncia 25 miliardi di tasse in meno, ma i tecnici parlamentari lo smentiscono. 17 sono virtuali e il resto finisce nelle tasche di imprese e redditi più alti. Sotto la testata, la mossa Anticei, Bologna e Palermo, Bergoglio fa a Vescovi due preti di strada, Papa Francesco nomina Zuppi e Lorefice. E poi, ecco come sarà il nuovo Twitter, video e notizie, il fatto economico parla il capo dell'azienda in Italia. E poi, il fondo di Marco Travaglio, del direttore Marco Travaglio, Vale tutto. In basso andiamo a vedere questi altri titoli. Ecco perché cacciano la Orlanti, troppi no, su Condono e Contanti, agenzia dell'uscita solo fuffa le banche dati sventolate dal Premier. In basso, Matteo e le stelle, bello il telescopio, te lo taglio. Foto con gli italiani dell'Eso, appena scippata, di 3 milioni. Possiamo lasciare anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere ora la prima pagina del Messaggero, chiaramente la prima pagina dell'edizione nazionale. Poi andremo a vedere la prima pagina dell'edizione locale. Ecco qui l'edizione nazionale, fari puntati sulla Capitale, il dietro front di Marino, resto il sindaco sfida il PD, è intenzionato a ritirare le dimissioni, salta il blitz sui fori pedonali, Dem Romani in tilt, rivolta contro Orfini, Gelo di Renzi, prima se ne vada, poi discutiamo. MotoGP, Valentino prepara la sfida decisiva, lavoriamo per Valencia. Oggi campionato, la Roma aspetta l'Udinese per restare leader, Lazio a Bergamo. Il film Spectre, Spectre Show con Craig e Bellucci, presentato a Roma, il nuovo Bond, l'editoriale di Alessandro Campi, dopo Senato e Provincia, che fare delle regioni, quindi fare i puntati sulle riforme, fotonotizia, esecuzione a Roma, due morti, droga o gelosia, doppia pista, vittime con molti precedenti, e si parla di Far West in città. Migranti, arriva lo sconto UE, Italia, altri 3 miliardi sul deficit, Juncker, flessibilità per chi sostiene sforzi eccezionali. Poi, come vediamo, la novità di al roaming, telefonare in Europa, costerà di meno, e per il 2016, Mantua, capitale della cultura italiana. L'ultimo titolo che andiamo a vedere in basso, anzi, gli ultimi due titoli, Assunzioni in Curia, lo stop del Papa, e poi se ne parla tanto in questi ultimi giorni, tumori e alimentazione, allarme, carni rosse, Lorenzin Frena, sistema italiano controllato e sicuro. E ora possiamo aprire l'ampia pagina dedicata ai quotidiani abruzzesi, iniziando dunque con le pagine del centro, centro che va ad aprire, così siamo in attesa che appunto si attivi l'applicazione. Allora, i cittadini mettono in fuga i banditi, banda con il carroattrezzi, sventra il bancomat, poi abbandona il bottino. E poi, sempre per l'argomento di qui sopra, i medici oncologi, sia gli arrosticini, ma con moderazione. È un po' il caso dell'abbinamento, con le malattie tumorali e l'alimentazione delle carni rosse, e in Abruzzo chiaramente una delle prime cose che vengono in mente sono i nostri famosi arrosticini. Il produttore e le nostre carni sono sicure, altro che hot dog. In basso, la fotonotizia dedicata alla protesta delle dipendenti dell'azienda Maiella Morrone, come vedete da 11 mesi senza stipendio, la protesta delle mamme lavoratrici accampate a manoppello. Occupazione. Delibera regionale, rischio alluvioni, stop al cemento in mezza città, in mezza Pescara. Una delibera regionale di sei pagine, blocca l'urbanistica di mezza città, il provvedimento è stato varato per tutelare l'incolumità dei cittadini nelle zone a rischio alluvioni. Dal fondo interbancario, 100 milioni per salvare, la Carichieti. E poi, calcio di serie B, caos Pescara. Si dimette, l'amministratore delegato, Gian Nascoli. In basso, buongiorno Abruzzo di Giuliano di Tanna, se l'arbitro non è cornuto, ma salva la vita, è riferimento al giovane di Alba Adriatica, che è stato colpito da arresto cardiaco, è salvato sostanzialmente, dal direttore di gara della partita, che gli ha applicato un massaggio cardiaco. Allora, all'interno delle pagine del centro, ecco che si ritorna subito sulla questione della carne rossa, la carne rossa no, ma gli arrosticini, lo studio OMS, che collega cattiva alimentazione a cancro, riguarda anche i nostri spedini, sembra di no, a patto che... Allora, ci sono le parole del medico oncologo Lombardo, una o due volte a settimana, in modica quantità. Sconsiglio, gare tra chi mangia più spedini, il numero massimo, ci guidi il buonsenso. Il produttore, Di Leonardo, carni da pascolo sicure, altro che hot dog, questa campagna offende chi lavora, chi porta in tavola nutrimento e salute, sono le parole di Omero Di Nonardo, che come leggiamo nella didascalia, è un'autorità nel campo degli arrosticini. Proseguiamo, la cronaca giudiziaria, rifiutopoli, Di Stefano allontana la sentenza, il deputato di Forza Italia ricusa il giudice, nel giorno in cui il tribunale avrebbe dovuto decidere, l'ex assessore Venturoni in aula, mai difeso gli interessi di Dizio. Poi, il consiglio regionale di ieri, Bernardini fumata nera, no al piano delle bonifiche. Poi ancora, Carlo Toto scende dai treni Rail One, per 8,6 milioni, l'imprenditore vende la società ferroviaria a cargo a CFI, i suoi locomotori erano attesi a bussi e manoppello. La protesta dopo la riforma, scuole, dirigenti per noi, più lavoro ma meno soldi. E poi, dopo la firma per i nuovi contratti tua, UGL Trasporti, ecco perché abbiamo detto no al contratto. Avanti, ancora nella pagina, o meglio, nelle pagine di Pescara e Provincia, una norma che fa discutere, Pescara resta a rischio alluvioni, stoppa il cemento in mezza città. Una delibera approvata di recente dalla regione, sospende le pianificazioni in centro e a Portanova, per tutelare la pubblica incolumità. Allarme degli architetti, il comune, non ne sapevamo nulla. E appunto parlano gli architetti, attraverso le parole del presidente dell'ordine, Antosa, queste norme ci preoccupano. L'autorità di Bacino, Di Biase, ma entro Natale aggiorneremo quella mappa, dice appunto Luciano Di Biase. Maiella Morrone in crisi, accampate in comune, restiamo qui, senza soldi, restiamo qui. Le dipendenti invadono il municipio di Manopello, vogliono, o meglio, vogliamo i nostri undici stipendi. E poi ci sono delle testimonianze, sciopero della fame contro le promesse della politica, poi non ho più soldi per i regali ai figli, basta parole, ora impegni scritti, sono alcune delle testimonianze delle dipendenti rimaste senza mensilità, senza undici mensilità. In basso sospiri un consiglio sul buco da 3 milioni, l'esponente di Forza Italia attacca ad Alfonso, non iluda le famiglie, il presidente illustri il suo piano. E poi protesta anche la dipendente assessore PD, Conte, delegata alle politiche sociali a Letto Manopello, costretti a lavorare per i debiti. Ancora, gli studenti firmano 100 progetti per la città del futuro, dal ponte del cielo all'area di risulta, ecco le idee per Pescara, elaborate per il comune dal dipartimento di architettura. Andiamo avanti, a Montesilvano, doppio assalto alle banche, i residenti mettono in fuga i ladri, Villa Raspa, i malviventi agganciano a un cavo d'acciaio la cassa prelievi della Banca Toscana, poi devono lasciare i soldi. Determinante l'aiuto dei cittadini per evitare che i due furti andassero in porto. E mezz'ora prima il colpo fallito alla BNL, analoghe modalità di azione a Montesilvano secondo gli inquirenti e la stessa regia criminale. Allora, andiamo a vedere il servizio realizzato ieri dalla nostra redazione. Un vuoto nella notte che ha fatto scattare le telefonate dei residenti di Via Italia a Villa Raspa di Pescara alle 3.30 svegliati dal frastuono dopo aver chiamato i carabinieri hanno scoperto che tutto era dovuto ad un tentato furto aggravato alla sede della Banca Monte dei Paschi di Siena. Il modus operandi ripercorre quello di Cannosa Sannita avvenuto due giorni fa un carro attrezzi utilizzato per portare via il bancomat con le banconote. In questo caso i carabinieri hanno ricostruito la scena anche con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza che hanno filmato tutto prima hanno sfondato il bossolotto dell'istituto di credito e poi con un lungo cavo d'acciaio hanno legato lo sportello di prelievo ma la fretta e l'allarme attivato hanno rovinato i piani facendo scappare i malviventi senza refurtiva gli uomini della compagnia di Pescara hanno poi ritrovato il carattrezzi abbandonato poco lontano dalla sede della banca in via Fellini intanto lo sportello bancomat è stato preso in consegna dei carabinieri in attesa che venga aperto non è certo ancora che possa essere recuperato il denaro contenuto poiché l'allarme interna allo sportello potrebbe aver fatto scattare l'inchiostro utile a segnare le banconote e dunque in quel caso sarebbero inutilizzabili il monte di Paschi di Siena di Via Talia intanto ha messo al lavoro gli uomini della sicurezza per ripristinare quanto prima la sede che nel frattempo resterà aperta al pubblico dunque funzionante grazie alla presenza di forze dell'ordine nel corso degli orari di apertura secondo le previsioni occorreranno due settimane per ripristinare la sicurezza della sede ancora nelle pagine di Montesilvano del centro la stella Maris sarà ristrutturata e tornerà a Colonia il presidente Di Marco sicuro di poter completare l'opera il presidente della provincia sicuro di poter completare l'opera di restauro rilancia la funzione di ospitalità per i giovani ancora avanti acqua avvelenata scontro di perizie sui limiti di legge processo Bussi Bis per la difesa solo quattro volte è stato superato il tetto di sostanze inquinanti ma la parte civile incalza nuova udienza il 10 di novembre ancora pagina di Chieti operazione salvataggio il fondo interbancario aiuta Carichieti stanzia 2 miliardi per 4 istituti commissariati alla Cassa Tiatina vanno 100 milioni per evitare il peggio spianerà la strada alla BCC Roma e Pescarabruzzo ma spunta anche un istituto del Nord come partner alternativo per la ricapitalizzazione i sindacati intervengono i tempi debbono essere brevi Renzi dica alla UE che non sono aiuti di Stato anche i dipendenti vanno salvati poi in basso tutti i pazzi per la nave che sarà rottamata ad Ortona la fregata maestrale della Marina Militare potrà essere visitata nel porto fino a sabato e ieri mattina c'è stato appunto l'attracco al porto di Ortona della fregata maestrale eravamo presenti vediamo il servizio una giornata storica per l'Abruzzo e per il porto di Ortona pochi minuti fa l'attracco qui al molo nord del porto ortonese della fregata maestrale eccellenza della Marina Militare italiana che dopo 30 anni di onorato servizio va a riposo tre giorni in Abruzzo per farsi conoscere e per far vedere tutte le bellezze di una nave militare fiore all'occhiello della nostra difesa c'è anche un significato particolare per l'inizio proprio da Ortona che è stata una città simbolo nella guerra sì effettivamente le operazioni nelle acque antistanti Ortona sono state intense ci sono stati molti nostri possiamo dire eroi che hanno combattuto in queste acque e quindi è giusto iniziare la campagna salutando Ortona parliamo di una nave militare di una nave che come possiamo vedere è dotata di sistemi di difesa importanti particolari vogliamo anche se brevemente descrivere le caratteristiche di questa nave questa è un'unità multiruolo il primo esempio di unità multiruolo possiamo dire nella storia delle marini alleate negli anni 80 fu presa questa decisione qualcuno anche qualcuno degli alleati la criticò all'epoca in realtà si è rivelata una scelta di successo perché come appunto detto prima nave mestrale così come le gemelle della classe mestrale appunto ha potuto compiere diverse missioni di varia natura tutte con successo grazie ai sistemi che gli consentivano di fronteggiare tutti i tipi di minaccia dalla minaccia subacqueo a quella aerea a quella di superficie salutare la popolazione le diceva in questi tre giorni ci saranno tanti incontri con i ragazzi delle scuole sì ovviamente cogliamo l'occasione per far conoscere la marina i suoi uomini i suoi mezzi ai giovani a chi potrebbe un giorno intraprendere questa carriera faremo delle conferenze ci saranno conferenze ripeto a sfondo storico per ricordare il centennale della prima guerra mondiale e con la stessa occasione mostreremo appunto ai ragazzi cosa vuol dire essere un marinaio pagina aquilana maxi truffa arrestato broker aquilano operazioni operazioni della finanza indagini in tutta Italia l'accusa per facchini insieme ad altri prometteva finanziamenti fantasma ad aziende in crisi decine di raggirati in basso l'esperto di insetti chierirà il giallo sul mona dovrà stabilire la data della morte di colabrese in Liguria poi c'è la protesta non mi pagano operario minaccia di gettarsi dalla gru ma poi desiste in basso sempre la cronaca celano ti brucio con l'acido va a processo rinviato a giudizio marito violento accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie a Teramo pagina teramana l'incontro dopo il dramma il calciatore abbraccia l'arbitro grazie mi hai salvato la vita colpito da infarto in campo esce dal coma e accoglie l'uomo che gli ha fatto il massaggio cardiaco Fabrizio Di Domenico un'emozione grandissima ma non chiamatemi eroe in basso l'appello conferma tre anni all'ex campione di Giacinto ritenuto colpevole di appropriazione indebita di 75 moto malaguti le due figlie assolte lasciamo il centro andiamo a vedere la prima pagina del messaggero Abruzzo dopodiché andiamo con il collegamento telefonico per avere tutti i aggiornamenti meteo dal nostro Giovanni De Palma allora ecco la prima pagina del messaggero Abruzzo asse colpe di Anas e comune Pescara le conclusioni del perito il crollo della condotta fognere di via riale poteva essere evitato infiltrazioni d'acqua lesione stradale mal sistemata troppo fragile la parete su cui posava la struttura e poi sotto la testata ci sono due titoli o meglio c'è questo titolo di riferimento bufera sul Pescara gli annascoli si dimette l'amministratore delegato sbatte la porta e gelo con il presidente Sebastiani ci sono poi dei richiami di sport calcio di serie B pazzo Lanciano sotto di De Vol rimonta 2 a 2 Lega Pro ricorso sorride il Teramo respinto quello dell'Aquila e poi altri richiami sempre sotto la testata internet un sondaggio in corona Roccaraso Regina della Neve l'Aquila scoperta shock le foto del novecento degli internati di Collemaggio rifiutopoli l'onorevole Di Stefano ricusa il giudice contestata durante l'udienza del processo la sostituzione di De Cesare con Marino che in aprile a Lanciano si era pronunciato su un caso collegato poi di spalla si parla di moto mondiale con il vastese Giannone che sul web è elevato a idolo dai tifosi di Rossi Escilo Lorenzo l'hashtag perché possa buttare fuori diciamo così Lorenzo il vastese posta una foto di lui e Valentino i fans gli chiedono appunto di buttare fuori lo spagnolo e poi la fotonotizia con Pietro ovvero Pietro Temperini che abbraccia il suo Salvatore l'arbitro in ospedale dal calciatore colto da infarto e poi ancora per carichieti è allerta dal fondo interbancario Cultura la Dompe nominata presidente del teatro stabile d'Abruzzo allora andiamo a effettuare il nostro break con Giovanni De Palma buongiorno Giovanni buongiorno Andrea buongiorno a te e a tutti i telespettatori questa mattina ho colto un po' di foschia ti risulta? Sì perché come avevamo già annunciato nei giorni scorsi poi anche quando abbiamo fatto il collegamento per la partita siamo interessati a andare dalle correnti atlantiche che sono portatrici di umidità quindi tassi di umidità molto elevati che poi danno luogo complice raffreddamento notturno alla formazione di foschia e di banchi di nebbia ma questa situazione sta per cambiare perché la nostra penisola e la nostra regione saranno interessate dal passaggio di due distinti sistemi nuvolosi il primo è previsto a partire dalle prossime ore inizierà ad interessare soprattutto la Marsica e l'Aquilano con delle piogge localmente anche a carattere temporalesco poi nel corso del pomeriggio questa perturbazione si estenderà sul versante orientale anche se non sono previsti fenomeni rilevanti tuttavia saranno talmente probabili dei rovesci a carattere spasso in estensione quindi anche verso le aree costiere nel corso della serata e nella nottata è previsto un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche ma attenzione perché è in arrivo una nuova perturbazione proveniente dalla Francia che risulterà più intensa della precedente favorirà dei rovesci piuttosto intensi a partire dalla Marsica e dall'Aquilano già nel corso delle prime ore della mattinata di domani poi nel corso della giornata questi fenomeni tenderanno ad estendersi e a manifestarsi soprattutto sul versante orientale lungo la fascia costiera dove saranno possibili anche dei temporali localmente di forte intensità questa situazione tenderà comunque poi ad attenuarsi a migliorare nel corso della giornata di venerdì ma non prima della serata perché in mattinata continueremo ad essere interessati da una nuvolosità piuttosto compatta sul versante orientale della nostra regione complice il richiamo di masse d'aria piuttosto fredda provenienti dai vicini Balcani di conseguenza ancora cielo nuvoloso con delle precipitazioni in attenuazione in serata in nottata e soprattutto nel corso della giornata di sabato Andrea a livello di temperature il freddo quello intenso può ancora attendere? sì Andrea il freddo intenso può ancora attendere non si prevedono diciamo sostanziali variazioni in tal senso anche se tra oggi e venerdì è prevista una graduale diminuzione perché arrivano comunque masse d'aria più fredda provenienti dai vicini Balcani ma non sarà il freddo intenso comunque i valori in linea con le medie stagionali Andrea grazie Giovanni ti auguro una buona giornata grazie Andrea una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 grazie grazie a Giovanni De Palma possiamo proseguire andando a scorrere le pagine interne del messaggero Abruzzo quando avremo finito andremo in pubblicità garante dei detenuti stoppa la Bernardini l'alberghiero a Pescara consiglio tranquillo improvvisamente acceso da una polemica tra il governatore Gatti nuova bocciatura per l'esponente radicale ritirato il progetto di Biocampus per il dececco a Cepagatti e ora la parola torna al Ministero Macro Regione i piani di Europa e Governo d'Alfonso molto interessanti per noi Abruzzo insieme a Rieti Isernia e le Marche senza Pesaro quindi insomma questo nel progetto degli accorpamenti della Macro Regione Abruzzo insieme a Rieti Isernia e invece le Marche senza Pesaro ne parlerò oggi sulla maestrale con il presidente Ceriscioli in basso e Roccarasso la stazione scistica più amata dalla rete il centro montano dell'alto sangro premiato dal sondaggio realizzato da Paesi Online l'Aquila farmaci scaduti indagati quattro primari sono i responsabili delle unità operative di cardiologia utic maxillo facciale chirurgia otorino laringoiatria e senologia sono sei in totale le persone indagate oltre ai medici le accuse riguardano due coordinatrici infermieristiche l'ispezione del NAS dei Carabinieri nel luglio scorso riguardò buona parte dei reparti del San Salvatore i pubblici ministeri Picardi e Ciccarelli non hanno ancora chiuso le indagini preliminari poi la cronaca cocaina nascosta nell'armadio di casa al quartiere Ater arrestato un cinquantenne in basso precari sulla proroga la giunta ci ripensa non è escluso che stanchi di aspettare gli interessati ricorrano al giudice del lavoro per la reintegra sempre a l'Aquila negozi tornati agibili solo uno su cinque si è ricollocato è probabile che si vada verso la concessione di un'ulteriore proroga in strutture temporane progetto case ragazza madre è disoccupata rischia lo sfratto la vicenda fa parte delle migliaia di casi di fragilità sociale all'interno delle 19 new town poi l'iniziativa rugby e l'educazione alla sicurezza in basso ex manicomio scoperta shock trovate nel canile lastre fotografiche con i volti degli internati il materiale arricchiera la presentazione del thriller di proia ambientato nell'ex psichiatrico ad Avezzano Burgo i sindacati lanciano l'allarme espresse perplessità e preoccupazioni sui toni trionfalistici dopo gli incontri non si riprenderà prima di un anno l'imprenditore subentrato non avrebbe ancora espresso il suo parere positivo sul piano di rilancio dell'azienda intanto però arrivano i ringraziamenti per tutte le istituzioni e la proprietà pagina o meglio le pagine di Pescara e provincia sul crollo dell'asse responsabilità di Anas è comune la perizia degli esperti sull'incidente di Pasqua ammette in luce le presunte inadempienze dei due enti e l'ACA chiede i danni l'ingegner Camata un intervento tempestivo efficace sull'asfalto lesionato avrebbe potuto evitare la rottura area di risulta i conti non si reggono advisor finanziario per rifare il piano alla summer school arrivano le idee degli universitari per la città futura Alessandri di Frena per la stazione e in basso le parole di Licio Di Biase proteggere il mosaico dai lavori alle golene l'appassionato di storia cittadina lancia su facebook una pagina di selfie per la tutela dei tesori di Pescara rifiutopoli di Stefano ricusa il giudice contestata l'udienza contestata in udienza la sostituzione di De Cesare con Marino che d'aprile a Lanciano si era pronunciato su un caso collegato la sentenza non prima del parere della corte d'appello e Venturoni nega di aver agito contro la sua società la Team a giudizio anche Rodolfo Di Zio l'accusa ha chiesto condanne da un anno e mezzo fino a cinque ancora avanti doppia spaccata i Bancomat ladri a mani vuote figliari BNL a Montesivano e Banca Toscana a Spoltore sfondate con un carro attrezzi banditi costretti alla fuga poi ancora genitori permissivi la rivolta dei figli venerdì a Pescara Modern Family con l'associazione Jonas confronto sul ruolo di padri e madri e poi ancora andiamo nella pagina di Chieti nei filmati si cerca una traccia dei banditi i rapinatori hanno preso di mira altre abitazioni oltre ai gioielli malvivente hanno rubato anche salsicce e una bottiglia di birra questa è la villetta che è stata rapinata ieri l'altro e poi nel tondo il professor Sidoti acqua offerta alla proprietaria e il criminologo Francesco Sidoti comportamenti non sempre brutali poi ancora ha approvato la nuova ZTL più il gettone di presenza alcuni commercianti di Santa Maria protestano fuori dall'aula ieri giornata di consiglio comunale a Chieti per la cronaca giovane piromene condannato a tre anni a Lanciano invece porta a porta arriva la rivoluzione scatterà tra pochi giorni nella zona est della città si tratta di 2.500 punti raccolta la copertura passa a 6.000 persone l'assessore caporale il costo del servizio è coperto dalla Tari il consigliere la Cisaglia si cambia nel segno della razionalità novità anche per la pista ciclopedonale in via del mare una delle strade più trafficate avanti con le pagine di Teramo e provincia di scariche abusive prime multe area chiusa grana al cimitero guardie ambientali in azione tre furbetti scoperti a gettare l'immondizia dappertutto emergenza a cartecchio serve una bonifica ma non c'è più posto per parcheggiare l'auto l'asle mette le transenne su impulso della giunta e scattano le polemiche per la decisione a ridosso della commemorazione dei defunti e poi ancora maggioranza allo specchio in un clima avvelenato per il sindaco è tutto a posto campana critico scommesse sulla prossima defezione caccioni e poi in basso i detes anche i dirigenti chiedono gli arretrati salario accessorio non versato per la nuova presidente di Pasquale un altro problema e poi in provincia Giulianova quanto mi costi allarme e telefoni in comune oltre 120 mila euro di spese per utenze canoni e traffico dati un volume molto alto se paragonato a Roseto e San Benedetto l'assessore dice l'anno scorso l'esborso era quasi pari al doppio stiamo riuscendo a diminuire e razionalizzare tutti i servizi caso cornicione la Ciafardoni porta a Mastromauro un reperto volato dalla scuola scatta la recinzione del plesso possiamo fermarci qui dunque con la cronaca del messaggero Abruzzo andiamo in pubblicità poi rientriamo per vedere anche le pagine della città e poi le pagine dello sport seconda parte di Mattino 6 di nuovo buongiorno da parte di tutta la nostra redazione come promesso ripartiamo dalle pagine della città il quotidiano della provincia di Teramo questa è la prima pagina l'apertura accolto il ricorso del Teramo Calcio la Corte federale d'appello deciderà sulla penalizzazione confermata la squalifica a Campitelli c'è l'editoriale di Federico De Carolis un pensiero alla serie B la foto notizia giunta all'arrabbiata peperoncino per curare i mal di pancia in maggioranza sotto la testata transennato il parcheggio del cimitero allarme caos decisione dalla asla ridosso della festa dei defunti rifiuti maleodoranti Grasciano di scarica immonda tumore al polmone a Teramo chirurgia all'avanguardia e poi ancora dei richiami di spalla taglio ai disabili a Vincenzo ci ha pensato Teramo solidale Roseto verso il vuoto le due anime del movimento si ricompattano nel movimento 5 stelle giulanova commercio tutti contro tutti e la consulta Tortoreto PRG fuori dalla cassaforte la variante secretata per un anno a proda in commissione poi in basso oggi il recupero Vivarini cerca il primo colpo in trasferta contro il Sant'Arcangelo entriamo all'interno delle pagine della città la pagina Abruzzo mai preso un centesimo nella vicenda Team dichiarazioni spontanee di Lanfranco Venturoni nel processo Rifiutopoli sentenza rinviata per ricusazione Fabrizio Di Stefano ha presentato la richiesta di ricusazione nei confronti di uno dei giudici del collegio l'avvocato Nisi è un'anomalia che Venturoni si trovi a rispondere di reati in concorso con persone che non appartengono più a questo processo in basso garante dei detenuti seconda fumatare nera per Rita Bernardini ci sono poi i commenti dell'avvocato Di Nanna stiamo perdendo tempo prezioso andiamo avanti accolto il ricorso del Teramo Calcio sarà la Corte federale d'appello a decidere sulla riduzione della penalizzazione confermata la condanna di Campitelli respinto il ricorso del Forlì presentato per prendere il posto di Teramo Savona nel campionato di Lega Pro come possiamo leggere soddisfatto l'avvocato Edoardo Chiacchio che è intervenuto telefonicamente da noi ieri sera a TV6 durante la trasmissione Pro Teramo ha commentato la sentenza del collegio di garanzie e allora mentre andiamo a rivedere qui in sintesi cosa è successo ieri al Coni il ricorso respinto per Luciano Campitelli quindi tre anni e centomila euro di ammenda Marcello Di Giuseppe quattro anni di inibizione e centomila euro di ammenda ed Ercole Di Nicola cinque anni di inibizione più radiazione o se volete preclusione e centomila euro di ammenda ha colto il ricorso invece della società della Teramo Calcio quindi atti rimandati alla Corte Federale che dovrà rimodulare la sentenza e rivedere evidentemente al ripasso la penalizzazione e allora si diceva dell'avvocato Chiacchio ieri è intervenuto telefonicamente a Proteramo da noi e allora andiamo ad ascoltare l'estratto della trasmissione condotta da Jacopo Forcella Il Teramo rimane in Lega Pro ma per i sei punti di penalizzazione quindi per le circostanze aggravanti che hanno portato alla penalizzazione ulteriore penalizzazione si rimanda alla Corte Federale d'Appello che dovrà valutare i sei punti di penalizzazione quindi mi pare scontato lo sconto perdoni il gioco di parole abbiamo letto bene? No è una lettura precisa analitica e che corrisponde esattamente alla verità in verità noi abbiamo rinunciato alla domanda principale vale a dire quella di riammissione in serie B quindi non è che rimane in serie B abbiamo anche rinunciato noi a questa domanda che rende invece l'affermazione della subordinata che è stata accolta l'unica domanda accolta tra tutti i ricorsi di oggi l'unica accolta è stata solo quella del Teramo e del Savona naturalmente quindi c'è un nuovo processo in corte federale d'appello nel quale dovrà essere valutata rivalutata la sanzione della penalizzazione quindi avvocato chiedo scusa possiamo partire a beneficio di chi? dei tifosi del Teramo dal presupposto che i sei punti comunque non saranno più sei presumibilmente saranno di meno? si può essere fiduciosi per una riduzione della sanzione certamente bisogna rideterminare la pena è qualcosa che ho già previsto io ed era l'unica possibilità che aveva il Teramo per vedere ridotta la sanzione quella della trasmissione degli atti al giudice di secondo grado che devono rivalutare questa decisione di tenuta errata dal collegio di garantia perché considera aggravanti che di fatti non ci sono queste dunque le parole dell'avvocato Chiacchio ieri sera a Protermo proseguiamo con le pagine della città la crisi in maggioranza al comune di Teramo Brucchi peperoncino contro i mal di pancia ieri sera riunione al VUD per fare il punto dopo l'addio di Fratelli d'Italia nessuno ha voglia di mandare a casa il sindaco avanti così critiche puntualizzazioni distingo alla fine per i consiglieri non c'è alternativa rimarranno tutti a sostegno del Brucchi bis almeno per il momento Teramo solidare consegna i fondi a Vincenzo 1000 euro di assistenza domiciliare al disabile simbolo della protesta per compensare i tagli del comune chirurgia Teramo passi passi all'avanguardia ASL e Università dell'Aquila adottano la tecnica mini-invasiva VATS per operare il tumore al polmone domani e dopodomani a Giulianova saranno stilate le linee guida della nuova tecnica operatoria non invasiva il tutto in un convegno cimiteri la ASL transenna il parcheggio di Cartecchio cancellati centinaia di posti auto per la festa dei defunti si prevede il caos con il traffico i vigili urbani non ne sapevano nulla il sindaco chiederemo di ridurre al massimo la recinzione dopo la bonifica dei rifiuti provincia Cirsu Grasciano è una discarica immonda le immagini pubblicate sui social network mostrano rifiuti ammassati ovunque e il cattivo odore pervade la Val Tordino qualcosa non quadra una discarica a regola d'arte non dovrebbe mettere alcun tipo di odore come viene in tante realtà in tutta Italia invece per chi transita lungo la Terramo Mare di giorno e di notte l'odore dolciastro dei rifiuti toglie il respiro anche in autunno avanti con la pagina su Roseto degli Abruzzi i grillini si ricompattano per le elezioni le due anime rossetane del movimento danno vita ad una nuova proposta per il movimento l'unica candidatura certa è quella di Sabatino di Girolamo per i democratici avanti ancora con la pagina della cultura la metropoli vista con l'arte e la letteratura l'università di Chieti un convegno per Francesco Iengo ripubblicato il suo scrittori e Gusto Urbano fra 700 e 800 la pagina ancora dello sport ma più calcio giocato in questo caso il Terramo cerca il primo colpo in trasferta Vivarini nessuna ossessione ma basta superficialità di Paolo Antonio dal primo minuto contro il Sant'Arcangelo possiamo lasciare la città andiamo a vedere ora le pagine dello sport ci sono notizie anche in questo caso molto importanti calcio giocato e non solo ripartiamo dunque dal centro che in casa Pescara parla di ribaltone Iannascoli sbatte la porta l'amministratore delegato si dimette oggi l'ok al bilancio Sebastiani dice spiace ma si va avanti il dirigente pescarese che detiene il 28% della società rompe con il presidente e lascia il CDA allora andiamo ad ascoltare e a vedere il servizio preparato ieri da Paolo Renzetti terremoto annunciato nel Pescara dopo i rumors delle ultime ore questa mattina è arrivata la conferma ufficiale Danilo Iannascoli si è dimesso da amministratore delegato il numero 2 della società biancazzurra e da consigliere del sodalizio adriatico restando come semplice socio alla base della decisione di Sidi con il presidente Daniele Sebastiani domani sera in programma l'assemblea dei soci a cui Danilo Iannascoli non parteciperà all'ordine del giorno ci sarà l'approvazione del bilancio al 30 giugno del 2015 Iannascoli da diverse settimane si era volutamente defilato non seguendo più le partite dei biancazzurri sia in casa che in trasferta nelle prossime settimane si capirà se le dimissioni da amministratore delegato precluderanno ad un'uscita di scena definitiva di Iannascoli o se come sembrerebbe il tutto sia finalizzato al rilancio con un'offerta per rilevare l'intero pacchetto azionario del Pescara come noto Danilo Iannascoli è anche patron della Pescara Calcio a 5 squadra campione d'Italia in carica sempre sulla stessa vicenda sempre sul centro dopo due anni di attivo l'assemblea dei soci dovrà approvare il bilancio d'esercizio con delle perdite superiori ai 4 milioni di euro il patron minimizza Danilo è una figura importante ma da agosto si era allontanato bilanci in passivo tranquilli la società è in salute dice appunto Sebastiani dal calcio visto un po' sotto l'ottica societaria al calcio giocato con la gara di campionato per la decima giornata di ieri del Lanciano e si parla di buon pari quello tra Virtus e Salernitana 2 a 2 piccolo firma la rimonta del Lanciano avvio da incubo per la Virtus Salernitana sullo 0 a 2 dopo 13 minuti ma l'attaccante rossonero realizza una doppietta decisiva ai campani non bastano i due gol messi a segno da coda Rigione e De Silvestro steccano in difesa all'ingresso di Lanini ha dato brio alla squadra di D'Aversa la reazione D'Aversa voglio questa Virtus il tecnico avvio shock ma poi siamo stati grandi parla anche il centrocampista Paghera soddisfatto no si poteva vincere l'attaccante piccolo peccato per quei primi 15 minuti l'allenatore Granata Torrente dice peccato perché abbiamo giocato la migliore partita su un campo molto difficile e potevamo portare a casa i tre punti o dubbi sul rigore dubbi anche per il difensore Emperor difensore della salernitana dice rigore azione da rivedere l'attaccante coda abbiamo mollato ci sono le pagelle insufficienze insufficienze in difesa in particolare per regione De Silvestro ma anche per il portiere aridità voti migliori dalla cintola in su in particolare per Paghera e Piccolo voto 7 per Vastola e Ferrari che prendono 6 e mezzo così come Lanini subentrato al 25esimo del primo tempo a Turchi allora diamo spazio ora alle immagini agli highlights di questa partita quella tra Virtus Lanciano e saernitano una Virtus in parte rivoluzionata ieri con due sorprese Turchi in attacco al posto di Francesco Piccolo torna a giocare sulla destra Ferrari ovviamente al centro l'altra novità al posto dello squalificato Mammarella non c'è Di Matteo che sembrava il candidato principale bensì De Silvestro a centrocampo invece Vastola preferito a Zeduardo a comporre il trio con Paghera e dice ecco nella saernitana in campo dal primo minuto c'è Bovo che sembrava non al massimo ma dovrà uscire infatti dopo 13 minuti Tridente contro Gagnello Coda e Gabbionetta il protagonista subito è Coda l'ex attaccante del Parma che segna una doppietta nei primi 13 minuti questo è il primo gol nel caso di specie sorpreso Aridità sul suo palo poi c'è una serpentina del brasiliano Gabbionetta il cui sinistro però è centrale viene bloccato da Aridità ma il raddoppio arriva al tredicesimo appunto su questo sbagliato retropassaggio di De Silvestro che voleva servire Aridità invece è un servizio d'argento su un piatto d'argento per Coda che controlla si difende dal ritorno di Amenta e poi batte Aridità anche in questo caso sembra un pochino incerto ma la conclusione è dalla corta distanza doppietta per Coda strada che sembra in discesa per la saianitana la Virtus abbozza già una reazione con questo cross di Piccolo ma arriverà al 26esimo già il gol che dimezzerà il distacco palla di De Silvestro per Ferrari che parte sul filo del fuorigioco respinta di Stracoscia e tap in vincente con il destro di Antonio Piccolo dunque al 26esimo partita già riaperta dalla Virtus Lanciano con Piccolo rivediamo l'azione il passaggio di De Silvestro un velo Ferrari davanti al portiere Stracoscia che respinge e arriva Piccolo per il gol dell'1 a 2 poi ancora una opportunità per la saianitana con l'azione di Gabionetta sempre travolgente il brasiliano della saianitana quando ha spazi per attaccare in velocità il suo diagonale è preciso ma qui Aridità si supera para allungandosi sulla sua sinistra e riscatta le incertezze per lo meno riscatta in parte le incertezze iniziali siamo alla ripresa e arriva il calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Emperor su un tiro dal limite il fallo è di Emperor su un tiro dal limite come detto il fischio del direttore di gara Manganiello di Pinerolo piccolo dagli 11 metri spiazza Stracoscia e firma dunque il 2-2 che poi sarà il risultato definitivo al quinto minuto della ripresa c'è poi una chance per la saianitana contro Roianiello che viene anticipato proprio in extremis davanti alla porta ancora un'opportunità per la saianitana il lancio dell'ex Pestrin che era entrato al posto di Bovo al tredicesimo del primo tempo Coda qui tira debolmente poi c'è un'opportunità per la Virtus Lanciano con questa rovesciata sotto misura di Ferrari dopo una presa difettosa di Stracoscia ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta Nicola Ferrari che comunque ha disputato una discreta partita e qui siamo agli ultimi istanti di gara con il fischio finale di Manganiello di Pinerolo eccolo qua il direttore di gara possiamo rientrare e andiamo ad ascoltare le parole pronunciate nell'immediato dopo partita dal tecnico Frentano Roberto D'Aversa intervista effettuata dal nostro Alessio Gian Cristofaro io penso che sapete che non mi piace parlare di fortuna però penso che con un pizzico di fortuna alla fine avremmo anche potuto portarla a casa una vittoria dell'incredibile per come si era messa per i primi 15 minuti di pura follia però devo comunque fare i complimenti ai ragazzi perché recuperare una partita in questa maniera non è semplice e non è da tutti quindi partire dal presupposto che siamo un'ottima squadra che le altre scuole avversarie devono far fatica fanno fatica per batterci però da qui dobbiamo migliorare dobbiamo limare ancora tanti piccoli errori che ci portano magari a subire i due gol come oggi che non ci possiamo permettere io penso che sotto questo aspetto della questione di gruppo di squadra non ci deve essere bisogno di una prestazione nel fatto di andare sotto i due gol per poi recuperarla è chiaro che è un vantaggio per noi i ragazzi sanno che lì dove si gioca da squadra la possibilità di fare risultato aumentano e questo per le caratteristiche della Virtus Lanciano non devono mai venire meno poi i risultati vengono di più o di meno ma sotto l'aspetto caratterale questo non possiamo venire meno bisogna migliorare sotto alcuni aspetti tecnici anche nella determinazione cattivera nel far gol perché sul due pari abbiamo avuto altre tre occasioni per far gol e lì bisogna avere più fame per portare a casa quel risultato che tutti quanti noi vorremmo ma dipende spesso e volentieri da noi queste sono le parole dunque di Roberto D'Aversa a proposito di Virtus Lanciano vi ricordo sin da ora l'appuntamento di questa sera alle ore 21 in diretta dai nostri studi con Virtus Style la trasmissione curata e condotta da Alessio Gian Cristoforo con il prezioso contributo tecnico di Marcello Ruggero si tornerà chiaramente a 24 ore di distanza sul verdetto della gara disputata dalla Virtus Lanciano contro la Salernitana questo 2 a 2 e magari si parlerà anche della sconfitta con tante recriminazioni di sabato scorso a Brescia e poi ci si proietterà anche sul prossimo match quello di sabato a Cesena da parte della Virtus Lanciano proseguiamo ultimi minuti della rassegna stampa il centro pagina di Lega Pro Teramo il Cogni accoglie il ricorso il collegio di garanzia rinvia gli atti in appello respinte le istanze di Campitelli e degli altri dirigenti possibile una riduzione del meno 6 oggi si torna in campo a Sant'Arcangelo per il recupero della terza giornata di campionato in basso l'Aquila ricorso respinto confermata la penalità il collegio di garanzia non restituisce il punto di penalizzazione di Nicola inibito per il caso Zenuni e poi il basket Brian Roseto Weaver è il nostro uomo in più il pivot dice abbiamo cambiato poco nel roster e questo è il nostro segreto Proger Coccigalli dopo il KFO vincere con il Brescia sarà fondamentale e poi ancora per il calcio a 5 ieri si è giocato il turno infrasettimanale valevole per la settima giornata una vittoria un pareggio una sconfitta questo è il bilancio Montesilvano aggancia i cugini dell'Acqua e Sapone la squadra di Ricci unica vittoriosa K.O. gli uomini di Bellarte il Pescara pareggia a fil di sirena con Canale scivola in quarta posizione ieri vittoria del Montesilvano che ha travolto 7 a 2 la Luparense 4 a 4 il pareggio a fil di sirena del Pescara con il Real Rieti l'Acqua e Sapone battuta nello scontro al vertice a Gensano dalla Cogianco sconfitta per 2 a 1 in basso Maratona di Venezia brilla il Rosetano Majorani andiamo a chiudere con le pagine dello sport del messaggero Abruzzo ecco qui Pescara il grande freddo i annascoli si dimette da amministratore delegato e il punto di non ritorno nei rapporti con Sebastiani oggi c'è l'assemblea dei soci l'ormai ex dirigente potrebbe puntare a rilevare tutto il pacchetto azionario resa dei conti all'interno del club i duellanti valutano il peso dei rispettivi sostenitori poi ci sono le parole di gli annascoli contesto il bilancio ci sono tracce di cattiva gestione il manager dimissionario pronto a dare battaglie in sede legale sono stato estromesso ormai da un anno non si fa attendere la risposta del presidente Sebastiani operazioni poco chiare ma lì c'è pure la sua firma ovviamente si parlerà ancora di questa vicenda nei prossimi giorni accanto alle vicende più squisitamente sportive Pazzo Lanciano pari giusto Coda lancia la Salernitana in sette minuti due gol generano il biondi la Virtus si rialza prima accorcia poi centra l'atteso due a due piccolo risponde scaccia i fantasmi dopo l'avvio da incubo al 79esimo l'occasionissima per fare tris ma Ferrari non è fortunato da Versa difficile spiegare il blackout quel blackout tolta quella parentesi ho visto lo spirito giusto che dovremmo avere sempre per il calcio a 5 Acqua e Sapone Capo Agenzano Pescara un 4 a 4 pirotecnico e poi doccia fredda sull'Aquila resta la penalizzazione l'avvocato Tortorella ci sono precedenti trattati in maniera diversa il Coni al Teramo pena da ricalcolare al ribasso e allora finiamo qui questa nostra rassegna stampa mattutina vi ho già ricordato l'appuntamento di questa sera alle 21 con Virtustyle vi ricordo anche gli appuntamenti informativi della nostra emittente alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 le tre edizioni del TG6 grazie a Claudio Di Giacomo che ha coordinato la parte tecnica grazie a voi per la cortese attenzione vi auguro una buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.